Non ho idea di come si giri un videotrailer. Su internet sono tutti d'accordo, un videotrailer deve essere più corto di un minuto, deve dire chi sono, cosa faccio, perché lo faccio, come lo faccio e da quando lo faccio e soprattutto deve convincere te, che guardi questo video, ad iscriverti al mio canale. Ora dimmi te come posso fare tutto questo in meno di un minuto. Potrei provare un approccio politico. Ciao, sono lo scrivacchino e parlo di cose. Iscriviti al mio canale ed insieme costruiremo uno YouTube migliore. Oppure un approccio più scientifico. La storia dell'umanità è stata segnata da date ben particolari. Nel 1969 l'uomo conquista la luna. Nel 1989 cade il muro di Berlino. E nel 2013 apre il canale dello scrivacchino. Oppure, semplicemente posso dire chi sono. Io sono Andrea e su YouTube sono lo scrivacchino. Sono un recensore opinionista di libri, film, anime, manga e qualunque cosa possa sollicare i miei interessi. Cosa vuol dire il fatto che io sia un recensore ed opinionista? Sono semplicemente due paroloni per indicare che parlo delle tematiche e delle dinamiche. Sono dietro a una particolare opera. E poi esprimo il mio punto di vista in modo da confrontarmi con gli altri utenti di YouTube. E niente, questo sono io. Se questo videotrailer per qualche strano motivo ti ha incuriosito, ti invito ad iscriverti al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video.